Musica Questo è il tagliere degli ingredienti per realizzare i paccheri con baccalà Eccolo Uvetta che poi andrò ad ammollare Olio Salvia Scalugno Pinoli Vino bianco Ramerino E maggiorà Musica La scelta Miranda La scelta Miranda La scelta Miranda Auguro a tutti buon appetito Ciao A presto Buon appetito Grazie.